Sono reduce da diverse ore con Pokémon Leggende Arceus e sebbene la recensione sia chiaramente lontanissima perché ci vorrà del tempo soprattutto in questo periodo per poterlo completare volevo cambiare due parole con voi riguardo al prodotto prodotto di cui si sta parlando tantissimo tendenzialmente in maniera positiva con un certo entusiasmo che lo circonda ma c'è una fortissima concentrazione di lamentele legate al progetto e onestamente da appassionato del brand che però chiaramente lo dico affinché sia chiaro da che punto sto parlando e qual è il mio progresso sono una persona che ha giocato tantissimo ai vari Pokémon da ragazzo un po' più giovane e che dopo i primi dieci anni diciamo di commercializzazione si è un po' allontanato dal brand li ho giocati alcuni ma diciamo che non ho sentito la necessità di tornare su certe produzioni perché si somigliavano strutturalmente un po' tutte ed ero un po' stanco di quel tipo di concept riproposto praticamente sempre allo stesso modo seppur con storie diverse con generazioni di Pokémon diverse eccetera eccetera questo Leggende Arceus mi ha chiaramente attirato di più e spinto a volerci tornare per un motivo principale cioè la sua la sua voglia di rinnovare la formula e l'ho apprezzata la sto apprezzando per il momento cioè per quanto sia un progetto in continuità concettualmente con quello che Pokémon è sempre stato Arceus sembra un progetto un po' più ambizioso un po' più all'avanguardia dove si percepisce chiaramente che il desiderio degli sviluppatori era quello di rinnovare senza stravolgere senza tradire senza rinnegare l'anima della produzione originale l'anima del brand e secondo me ci sono riusciti perché quello che abbiamo fra le mani in questo momento è un progetto che sicuramente ha le sue criticità specialmente da un punto di vista tecnico ma ne parleremo adesso ma che da un punto di vista ludico di gameplay di progressione e di divertimento credo sia assolutamente appagante e privo di particolari problemi cioè il fatto che per esempio adesso i combattimenti siano in tempo reale che non ci siano fasi di transizione a spezzare il ritmo della progressione che la gestione dei vari Pokémon sia molto più diretta che l'esplorazione sia molto più aperta che si respiri un'aria diversa in grado di farci sentire se vogliamo anche un po' più parte di quell'universo l'ho trovato una scelta assolutamente vincente assolutamente soddisfacente e da vecchio appassionato che negli anni si è allontanato un po' per età o un po' per altri interessi tornarci mi ha risuscitato grandi emozioni cioè seppur con i miei 34 anni mi sto divertendo un casino a star lì a fare quello che facevo da bambino poi con Pokémon rosse e blu poi col giallo poi con quello che c'è stato dopo ma è un progetto che riesce a toccare certe note a ritoccare certe note e a riportarti dentro delle dinamiche che sono rimaste poi le stesse collezionali tutti potenziali portali in giro e anche il sistema di missioni di incarichi con questa necessità di completare di gestire il Pokédex in maniera diversa rispetto al passato attraverso osservazioni raccolte anche numericamente superiori al singolo Pokémon è una cosa che trovo stimolante ecco la parola chiave per definire questo Archeos è stimolante un progetto non certo rivoluzionario ma che rappresenta secondo me una gradevole suggestiva e vincente evoluzione di un concept che aveva un pochino fracassato tutto quello che poteva fracassare perché l'impostazione canonica basta cioè vista vista rivista siamo arrivati a un punto in cui ci 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 voleva un un rinnovamento il problema che credo abbia condesionato molte persone è la componente tecnica quella è oggettivamente un problema perché nel 2022 Pokémon Archeos risulta tecnicamente inferiore a tanti prodotti di questa generazione della precedente e a molti di quelli della precedente ancora cioè tecnicamente è un progetto avverrante se da un lato abbiamo dei modelli dei personaggi che però darà anche un design gradevole non posso tutto il resto è tutto il resto no tutto il resto no le ambientazioni sono spoglie piatte poco entusiasmanti cromaticamente anche fiacche la direzione artistica proprio è un no grosso come una casa da tutti i punti di vista cioè si vede veramente quanto tutto sia veramente poco ispirato poco curato per quanto in giochi così non sia fondamentale avere un mondo rigoglioso e d'impatto e si sia a tutti chiaramente consapevoli di quanto switcher non possa offrire chissà cosa a fronte di un concept così ingombrante così pesante da gestire per quell'hardware credo che si potesse fare qualcosina di più magari scendendo a certi compromessi magari optando per uno stile grafico un po' meno un po' meno pesante che permettesse di fare qualcosina in più stilisticamente ma è veramente veramente pessimo dal punto di vista tecnico allora in termini di stabilità ci siamo dici ci mancherebbe pure con quella roba che hanno fatto però non è sufficiente cioè nel 2022 su una console in cui peraltro spesso ci si trova a dire è però rispetto a la concorrenza rispetto a come si vede altrove rispetto al livello qualitativo raggiunto dal settore in questo periodo già siamo al di sotto degli standard e se in più si iniziano a tirare fuori i progetti così poco riusciti da un punto di vista tecnico è normale che poi le lamentele siano forse un po' più rumorose di quanto non siano normalmente ecco per cui quello lo capisco però al tempo stesso mi sento di dire ok la componente tecnica è terrificante ed è oggettivo ma al tempo stesso non si può far sì che questo pregiudichi le valutazioni su quello che è il concept cioè dovremmo essere secondo me sufficientemente bravi da scindere la componente tecnica da quella ludica la componente ludica è innegabilmente riuscita per quanto magari possa non piacere ai fanatici del brand agli irriducibili a quelli un po' intransigenti nei confronti del cambiamento è comunque un cambiamento gradevole nel suo insieme non ha stravolto non ha sporcato l'essenza del brand la componente tecnica quella sì quella merita tutte le critiche possibili perché è oggettivamente e indiscutibilmente riuscita male però credo nonostante appunto sia ben lontano dal finirlo ragazzi sono intorno veramente avrò giocato una decina d'ore a dir tanto però le sensazioni per adesso sono assolutamente positive quelle di un progetto che ha subito dei cambiamenti che potevano essere estremamente deleteri e che a conti fatti non lo sono state quindi io per adesso me lo godo seppur in età adulta perché appunto c'è questa cosa che poi sia un gioco per ragazzini è strutturato affinché lo sia affinché lo sembri per risuonare principalmente con i giovani e i giovanissimi ma il suo concept nasconde molta più profondità di quanto non sembri un po' come se vogliamo Kingdom Hearts anche se Kingdom Hearts dalla sua ha quella profondità filosofica ben nascosta agli occhi di chi non riesce a coglierla ma ce l'ha qui in Pokémon chiaramente non c'è ma da un punto di vista di progressione di profondità ludica Pokémon ha tanto da offrire indipendentemente da quanti anni si hanno quindi è una cosa che mi sento di dire specialmente a chi ascoltando magari avendo la mia stessa età o qualche anno in più dovete dire provatelo ragazzi magari potreste scoprire un interesse verso un genre che avete sempre trascurato ignorato perché convinti che non potesse richiamarvi nulla di interessante in realtà posso dire che seppur da persona adulta io mi ci diverto ancora come mi ci divertivo da ragazzino per cui dateci un'occhiata se vi capita e poi eventualmente tornate qui a farmi sapere com'è andata ecco io sono curioso in casi come questi di confrontarmi con 4 e più persone possibili e di età possibilmente differenti per sentire un po' gli animi di tutti anche perché in questo caso i cambiamenti strutturali che ci sono stati potrebbero aver stupito positivamente o deluso tantissimo e se ne è curioso di sapere il vostro punto di vista per cui ragazzi io per adesso vi saluto fatemi sapere poi ne riparleremo più avanti la recensione arriverà sì forse tra un mese credo che difficilmente riuscirò a finirlo prima però ci tenevo intanto a scambiare due parole sull'argomento così da poterci confrontare un po' Grazie Vi Sacamo Grazie 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 a tutti.